e dunque un nuovo saluto agli ascoltatori di radio 3 di nuovo radio 3 suite andrea ottonello al microfono per darvi il benvenuto nella stanza della musica di oggi la 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 musica di oggi Bene, allora di Mozart ascoltiamo questo arrangiamento, invece qui vedo che è l'attribuzione a Giuseppe Grossi, questo arrangiamento qui del Don Giovanni. Giuseppe Grossi fu il primo direttore del gruppo di Ocarina, era un coetaneo più o meno di Giuseppe Donati, dell'inventore, quindi entrambi erano all'incirca del 1840 e fece parte del gruppo che lanciò l'Ocarina in tutta Europa con i suoi concerti. Bene, allora auguriamo ai nostri ascoltatori ancora un buon ascolto di questo secondo brano che ascoltiamo ancora con il settimino, il settimino di Ocarina. Allora io cito nuovamente i componenti di questo gruppo carinesico-burdigliese che sono Fulvio Carpanelli, Fabio Galliani, Simona Vincenzi, Emiliano Bernagozzi, Elide Melchioni, Mario Corticelli, Gianni Grossi e Giulio Bondanelli nel Don Giovanni di Mozart. Allora io cito nuovamente i nostri ascoltatori. 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 Grazie a tutti. 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 Come si è espansa questa realtà così un po' artigianale che è nata, come ci diceva prima Fabio Gagliani? Noi sì, è parecchi anni che comunque facciamo tornei, diciamo che perlomeno che giriamo fuori dall'Italia sono 25 anni. Grazie sicuramente a un discorso che siamo stati appoggiati come novità molto dalla regione, Emilia Romagna. Quindi le prime tornei sono state organizzate da loro in paesi quali Australia per portare verso questi paesi. Quindi non proprio dietro l'angolo? No. Avete fatto un bel viaggetto? Sì, devo dire che nonostante, insomma, non siamo un gruppo sicuramente di fama nazionale, abbiamo avuto delle tournée importanti, abbiamo suonato in sale importanti, quelle può essere la Carnegie Hall, abbiamo suonato comunque per il Columbus Day a New York, insomma abbiamo fatto varie esperienze, abbiamo suonato per i primi ministri, abbiamo suonato per il Dalai Lama che eravamo ancora bambini. Cioè abbiamo conosciuto il Papa Voitivo quando proprio è stato eletto, insomma abbiamo fatto delle esperienze sicuramente molto gratificanti. Sì, siamo stati parecchio anche all'estero, ma sempre per portare un po' del calore di casa, diciamo, verso le comunità. Adesso ci stiamo espandendo all'estero per altri motivi, diciamo che in Oriente si è molto diffusa questa mania dell'ocarina e quindi siamo richiesti in questi paesi orientali, insomma, che ci accolgono con un estremo calore al quale non siamo molto abituati, insomma, quindi... Ho capito. Bene, allora io ringrazio Simona Vincenzi e chiedo di passare di nuovo il microfono a Fabio Galliani, al quale chiedo di illustrare il prossimo brano, che è ancora all'insegna del repertorio appunto operistico, ma con il contributo del pianoforte. Quindi dal settimino passiamo alle due ocarine e al pianoforte. Di che si tratta? Esattamente, si tratta di un altro brano di Rossini, del duetto buffo di due gatti, un brano molto celebre e molto buffo per l'appunto, e abbiamo pensato di coinvolgere anche il nostro amico pianista, anche lui di Budrio. Che è Roberto Bonato, lo salutiamo. Direttore di Cori, nonché appunto esimio pianista, per dare anche un'altra veste all'ocarina, anche come strumento solistico e non solo strumento all'interno del settimino, che pure è la nostra tradizione particolare di Budrio. Bene, allora buon ascolto del duetto buffo di due gatti da Gioacchino Rossini per due ocarine e pianoforte in diretta dalla Stanza della Musica di Radio 3. Grazie. 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 Gregolano Rossico Buldriese, nostro ospite alla Stanza della Musica di oggi. E con lei vorrei tornare a fare qualche discorso più tecnico. Voi avete portato a voi un sacco di strumenti, e so che c'è diversità del tipo di ocarina che adoperate. Allora, banalmente, su quali strumenti suonate state suonando per noi questa sera? C'è da dire che una premessa è che ci sono un certo numero di costruttori, non tanti però rispetto al passato un buon numero di costruttori che fanno ottimi strumenti in questo momento in Italia, in Europa per non parlare del mondo perché in Asia ci sono forse migliaia di costruttori di ocarine nati negli ultimi dieci anni Mi sembra di aver capito che l'Asia all'Oriente si sta risvegliando un certo interesse per questi strumenti quindi presto avremo parecchi strumenti Infatti i nostri contatti sono rivolti principalmente sui mercati coreano, taiwanese, cinese, giapponese e volevo dire però che anche in Italia ci sono degli ottimi costruttori cioè innanzitutto il nostro costruttore di Budrio Fabio Menaglio che porta avanti nel luogo dove è nata l'Ocarina ottimamente la tradizione e con l'Ocarina del quale suoniamo in settimino e poi volevo citare altri costruttori, i nostri amici e valenti artigiani con l'Ocarina dei quali suoniamo anche in particolare per quello che riguarda i brani solistici ad esempio questo brano abbiamo suonato con l'Ocarina di Benvenuto Fecchio Ecco possiamo far sentire qualche esempio rapido della differenza proprio del tipo di ocarina se ha voglia? Proprio qualche nota tanto per capire, per far capire meglio ai nostri ascoltatori la differenza tra l'Ocarina di un costruttore e quella di un altro costruttore tanto per provare anche a descrivere un pochino, aiutare i nostri ascoltatori che non vi vedono come... Sì, sono differenze molto percepibili ma proprio per un grande esperto di ocarina faccio sentire un suono, un arpeggio con l'Ocarina di questo costruttore dell'Elta del Po che si chiama Benvenuto Fecchio che ultimamente sta facendo degli ottimi strumenti Ecco, e invece cambio? Ecco questa è un'Ocarina invece di un costruttore austriaco che si chiama Hans Rotter è un suono più dolce Beh però il timbro cambia effettivamente, si percepisce... E questa è un'Ocarina tipica di Fabio Menaglio, un'Ocarina nata a Budrio Un costruttore storico insomma Ecco, bene, quindi più perentoria direi Bene, 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 quindi è anche importante capire Quindi cerchiamo di variare un po' il timbro dello strumento appunto nei brani solistici Ovviamente ci sono ocarine di varie dimensioni ad esempio altri componenti che ancora non ho interpellato suonano su strumenti più grandi evidentemente per una... Sì, perché la divisione dei ruoli all'interno del gruppo è i bassi I bassi sono ocarine molto grandi Chi c'è dei bassi? C'è qualche volontario che ha voglia di come a scuola di... Facciamo parlare Giulio, il giovane del gruppo Il giovane del gruppo, eccolo qua Giulio Bondanelli Buonasera Buonasera Lei quanti anni ha? 21 Ah, quindi ormai si è giunto da poco al gruppo Da un anno circa E lei era ocarina anche lei da quando era piccolo? No, no, assolutamente Io ho studiato clarinetto Ah, e poi come è arrivata questa ocarina? Tramite Emiliano Bernagosti che mi ha inserito in questo gruppo Ah, è contento? Certo Sì, sì Una famiglia anche per lei, insomma Lei che ocarina suona? Io suono la settima L'ultima Che... La più bassa Possiamo ascoltarla? Sì Ecco, se lo aiutano i colleghi Eh, beh, c'è una differenza abbastanza netta rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima, insomma Ha voglia lei di descrivere, di raccontare ai nostri ascoltatori qual è il prossimo brano che avete previsto? Di nuovo in settimino, vedo qua Nell'arrangiamento di Cesare Testi Al secolo 1856-1915 Beh, un omaggio forse al bicentenario Verdi-Wagner Visto che si tratta del celeberrimo quartetto Dal terzo atto Appunto del rigoletto Di Giuseppe Verdi Quindi da un quartetto a un settimino Qui sarà molto interessante vedere come si sono divise, no? Le quattro voci Non si svolge molto lontano da voi questa scena qui? No, no Sulle rive del Migi Diciamo che Verdi è l'autore Che i gruppi ucranistici hanno sempre prediletto Anche perché la passione delle pagine di Verdi è quella che a nostro parere riesce meglio con l'ocarina Allora, buon ascolto di questo quartetto Del quartetto, anzi Dal rigoletto di Giuseppe Verdi Nell'arrangiamento di Cesare Testi Per settimino di ocarine Ancora nostro ospite Il gruppo ocarinistico budriese Allora, buon ascolto di Giuseppe Verdi 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 Grazie a tutti. 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 Può rispondere su Chopin, Schumann, ma forse sugli ocarinisti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 registrando. Dat Namurat, anche amici napoletani perdoneranno anche la mia di pronuncia, con il gruppo ocarenistico budriese qui alla stanza della musica di Radio 3. Grazie a tutti. 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 Radio 3 Suite, ho qui davanti a me un bel libro, il settimino di Ocarine, la storia di una tradizione italiana di Claudio Cedroni, Radio 3 Suite se n'è già occupata l'anno scorso. Il programma di Radio 3 Suite è curato come di consueto da Monica Donofrio, Stefano Roffio e Paola Damiani, in redazione Leda Bianchi, Giorgio Aniso e Chiara D'Ambros, questa sera dall'altra parte del vetro. Stefano Roffio e Giorgio Aniso in regia e Gaetano Chiarella e Massimiliano Capitolo, i tecnici alla console. Radio 3 Trattino Suite, chiocciolarai.it, per i vostri messaggi di posta elettronica potete scriverci a ogni ora del giorno e della notte. Passate una buona nottata, ci ritroviamo domani alle 20 per una Bohem in collegamento diretto a Euroradio da Torino, ora la linea va a battiti. Da Andrea Tonello l'augurio di una buona notte e di una buona domenica. A domani. Grazie a tutti.